Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Qualche vecchino l'amica tra me sembra la vita, ma se ne andava qui. E io che sono perso in un paquaggio, un paquaggio, a riparare, perché non si può più riparare, un vecchio del riso, così da me. E poi c'è il pecore, e poi non c'è il pecore. E poi posso chiudere i spiriti buoni, i gioioni e i simpatici americani, e le case di ragione, le studi aperti, i giovani, i progatti, e poi la testa è molto a distancia con i disumani. E i bambetti piangono, e si confiderano con i produttori di talk show, con i giovani e i tasmani, con voce modificate, e strappano l'apile ad altri tasmani, e chiameremo un radio per oggi di traiparsi. E io che sono perso in un paquaggio, e non so se sono vivo o morto, vedo la luce di mano che mi illusirà, da te le camera, un microfono, una dolota stupida, e non scende il cuore. E' un po' la brondi però, è la brondi. E' la brondi.